Che cosa è del mare? Strano Come strano? C'è un critico ce l'è io No, 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 no poesia Strano come mi sentivo io mentre la dicevamo E come ti sentivo? Non so Le parole andavano di qua e di là Come il mare allora Esatto, come il mare Ecco, questo è il ritmo Infatti ne ho voto Il mal di mare Il mal di mare No, non ti spiegare, io mi sono sentito come una barca sbattuta dalle parole. Come? Come una barca sbattuta dalle vostre parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Ecco, vorrei così. Tu non sai cosa hai fatto, ma... Cosa ho fatto? Una mità. No! Sì! No! Dove che no? No, veramente? Sì! Ma vabbè, però non vanno, perché non la volevo fare. Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali. Allora, voi volete vedere, per esempio, il mondo intero, il mondo intero proprio, il cielo, le nuvole, la bioggia, eccetera, 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 il mondo intero è una metafora di qualcosa. Ho detto una sconsata, no? No, no, per niente. Per niente. E' be', però, e di fatto la faccia strada.